Ciao a tutti, sono Marta Suvi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui a celebrare Paola Cortellesi. Io non ho ancora visto, c'è ancora domani, sono stata un po' maluccio, mille cose da fare, quindi purtroppo non ho trovato il tempo e devo tentare di recuperare, non so ancora, anche perché devi prenotare per vedere il film, perché è super richiesto, quindi sono super contenta di questa cosa, ma è entrato nei record. Io voglio fare una riflessione con voi su come il cinema italiano, secondo me non sta sfruttando minimamente questa questione, ma proprio zero, 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 zero. Quindi facciamo questa riflessione così, se voi avete visto il film, se ne avete sentito parlare, se magari seguite un pochino di più la televisione, vorrei fare dei paragoni con voi per quanto riguarda come questo film che è entrato nella storia come campione di incassi, non sembra essere un fenomeno come lo è effettivamente per quanto riguarda i numeri e quindi parleremo di donne e registe, eccetera, eccetera. Siete pronti? Prima di iniziare, se vi vado a supportare il mio canale, potete farlo con un like, un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale, mi aiuta tantissimo, oppure ancora mi potete aiutare seguendomi su Instagram o su TikTok. Grazie mille in anticipo, la maglietta così, col kraken di Pampling, con il codice sghicio voi avrete uno sconto e mi aiuta da un sacco se lo utilizzate. Ecco, finita il fatto, inizio a parlare del film. Come vi dicevo, io non ho ancora visto il film, quindi ho un'opinione super neutra, super analitica per quanto riguarda i dati, ma ho visto l'altro giorno che praticamente è entrata nei record. Questa è un'opera prima e già era entrata nei tanti record proprio per questo. Ha un'opera che sulle tematiche, che parla per quanto riguarda cose che subiscono le donne, siamo ancora all'inizio del video, prima che YouTube, insomma, si arrabbia. Ma è anche un'opera di una regista, che è una cosa molto molto rara. Purtroppo nel cinema italiano ci sono delle registe, però è come se nessuno ne parlasse. Io sinceramente non riesco a capire come sia possibile che per esempio la Rochevacher, nome che io non so pronunciare, sia praticamente per niente citata in Italia. Io vedevo l'acclamazione che c'era all'estero per la chimera, che doveva uscire tutto, ma in Italia non se ne sta parlando. Parliamo anche di questo, però, come i successi delle donne non è che semplicemente non esistono, che anche se tu li raggiungi vengono trattati in maniera totalmente diversa. L'altro giorno stavo vedendo che infatti nella top ten dei film con l'incasso maggiore di sempre della storia del cinema italiano, è rientrato C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Il primo posto è del 2016, ovvero Cuo Vado, con 65 milioni. Secondo posto, sempre Checco Zalone, Sole a Catinelle, che è uscito nel 2013 con 51 milioni. Terzo posto, Tolo Tolo, 2020. Un'altra cosa che mi ha colpito è che questo è praticamente, questo insieme a C'è ancora domani, l'unico film che, insomma, degli ultimi quasi vent'anni, perché poi quello più recente è il 2016, però ormai è proprio difficile, difficile. Quindi vuol dire che probabilmente sempre meno gente è andata al cinema. Tolo Tolo del 2020, 46 milioni. Che bella giornata, 2011, 43 milioni. La vita è bella, 1997, 31 milioni. Benvenuti al Sud, 2010, 29 milioni. Chiedimi se sono felice, 2000, 28 milioni. Natale sul Nilo, 2002, 28 milioni. E il ciclone, 1996, 28 milioni. E poi il decimo posto c'è ancora domani. Io sinceramente ho scritto questa cosa su Twitter, ho scritto, è totalmente assurdo che il cinema italiano non sia ancora trattando questo film come trattò la grande bellezza. Ora dovrebbero esserci approfondimenti, omaggi e ospitate continue per il successo storico. E invece non se ne sta parlando nessuno. Ecco perché il cinema italiano muore. Il fatto che un successo epocale, perché entrare nella storia è epocale, per una donna, il regista, non venga celebrato a differenza di successi inferiori, perché se gli incassi sono inferiori c'è magari un successo percepito, o magari qualitativo, però la qualità, se tu vai fuori dalla percezione di persona estremamente competente, potrebbe essere personale, potrebbe essere una supposizione. Questi sono dati oggettivi che teoricamente non dovrebbero essere messi in discussione, quindi non è questione di opinioni, è questione di dati. Se io, per esempio, continuo dicendo se successi evidentemente inferiori perché hanno incassato meno, quindi successi di pubblico più piccoli come i film dei Manetti Bro, che a me piacciono, Gigro Bocchi, io ancora devo vedere, Smetto Quando Voglio, che a me piace, confermo, quindi non è qualcosa per sminuire queste cose, però se questi vengono percepiti come il successo del momento e questo che oggettivamente è successo perché i numeri parlano, se non viene riconosciuto tale e viene acclamato molto meno, la percezione generale sarà che ha avuto meno successo. E perché? Cioè, perché questo è il passaparola ma nessuno sta parlando in televisione? Perché non viene presentato come un successo epocale? Perché io sento parlare di lo chiamavano Gigro Bocchi come un film da record quando in realtà non è un film da record, evidentemente, almeno non per il pubblico. Io sento parlare con Tony veramente da spellarsi le mani di, per esempio, credo sia Federico, Federico Zampaglioni che da essere un cantante, un musicista di T. Romancino è passato al cinema. Io non ho mai visto nulla di suo. Potrebbe essere un genio e non lo metto in dubbio. Cioè, non è questo qualcosa contro di lui. è contro come vengono raccontate delle cose in maniera impari. Io sento parlare di lui come mamma mia, guarda così, tutti acclamavano il suo passaggio al cinema e alla regia. Cioè, tra un po' io ho visto, hanno presentato il suo nuovo film The Wells, o The Well, non mi ricordo se c'era la S plurale o meno, e ho visto ovunque che veniva spammato visto che era stato presentato al festival. Magari perché è veramente un film meraviglioso. Se qualcosa viene acclamato perché ti piace, perché è bella, perché è un successo di pubblico, com'è possibile che qualcosa che oggettivamente è sopra quello non viene acclamato tale? E questo è uno dei problemi. Quando si parla di successo femminile, la gente dice, eh vabbè, ma le donne adesso entreranno al cinema. No, no, le donne ci sono sempre entrate al cinema. Il problema è che i loro successi non vengono riconosciuti e non vengono acclamati. E se tu non hai mai la percezione che quello sia un successo o che sia così grande, è come se tu non l'avessi mai realizzato. Perché chissà che quel successo è avvenuto lo sanno gli studiosi, lo sanno le prossime persone che andranno lì e si andranno a leggere i dati del botteghino nella storia. Per esempio, chi ha inventato la sceneggiatura così come la conosciamo noi oggi? Chi è stata? Una delle prime persone che per esempio ha fatto il primo film con costume e scenografia. È stata una donna, Alice Ghi. Un'altra donna ha inventato la sceneggiatura così come la conosciamo oggi perché prima c'era una sorta di canovaccio. Voi sapevate queste cose? Vengono studiate a scuola? Vengono insegnate? No. Sono successi? Sono successi traguardi storici? Inventare qualcosa? Sì. Ma se nessuno lo sa è come se non esistesse. Cioè, se io scopro, che ne so, la cura per una malattia rara, ma nessuno lo sa. Nessuno parla di questo vaccino? Lo sanno solamente quelli che si vanno a scartabellare le carte, però non lo sa nessuno. E io non divento mai quella che ha salvato il mondo. Divento una scema che probabilmente finisce in miseria. Questo è il problema di trattamento. Se davanti a registi che hanno avuto dei successi anche più piccoli, l'acclamazione è cento volte di più, perché io, De Zampaglione, ho sentito parlare fino all'esaurimento nervoso. De Smetto Quando Voglio se ne è parlato come un successo epocale. dei film dei Manetti Bro, che sono film di genere, quindi ovviamente che puntano a un target più piccolo a livello di persone, hanno sentito parlare come dei successi trasversali. Se anche per esempio Lo Chiamagic Robot se ne è parlato come se fosse veramente il film epocale della storia che cambiava tutto, io mi immagino che questo, che oggettivamente sia per percezione sia per numeri lo è, se ne parla almeno alla stessa maniera. Non c'è questo trattamento. Io devo capire perché. perché le persone sembrano amarlo, i film sembrano dare sempre di più, perché ci sono dei successi preconfezionati. Se magari c'è una campagna di marketing massiccia, se c'è una distribuzione, cioè Checco Zalone ha fatto quegli incassi anche perché la distribuzione era veramente aggressiva. Ovvero, se è un po' una questione complicata, i distributori affittano delle sale e le affittano per i loro film. Se io sono, che ne so, Warner Bros, so che in quel periodo ho tre film in uscita e magari diciamo prenoto tot sale. Ho degli accordi per tot sale. Poi successivamente io oppure magari l'esercente decidiamo quante sale dare un film e quanta un altro. Ovviamente se io penso che quel film sia un flop non gli do tutte le sale che ho, ne gliene darò poche. Se penso che un film invece sia tanto richiesto o se effettivamente è tanto richiesto, è possibile che magari se ho cinque sale a disposizione gliene le do tutte. e se è molto richiesto c'è un doppio coso. Da una parte c'è la percezione che quello sia un film perdibile perché tutto il cinema è così. Dall'altra parte effettivamente diventa l'unica scelta o quasi o la scelta quasi obbligatoria della situazione e quindi farà successo. Da una parte quindi c'è tanta richiesta dall'altra parte a volte diventa l'unica richiesta o la richiesta maggioritaria e quindi per forza di cose si è obbligato ad andare lì a vederlo oppure è la scelta più comoda oppure è una scelta che ti ritrovi a fare. Questo non è successo per la distribuzione di C'è ancora domani non è stato così massivo per quanto riguarda tutto ciò. Però io mi domando perché adesso non ci stanno i talk show che stanno a fare a gara per invitare il cast per invitare Paola Cortellesi perché io che non ho ancora visto il film non mi è arrivato per esempio tutto il cast cioè io ho visto gli screen dei fermi immagini nella manifestazione non c'è una di meno non l'ho visti che ne so con l'omaggio da Mara Vinier non ho visto Mara Vinier che intervista una delle attrici del cast dico Mara Vinier per dirne una ovviamente ma teoricamente questa è una cosa del momento e perché la tv se ne sta disinteressando perché i Mary se ne stanno disinteressando perché non vedo degli omaggi perché non vedo anche che cavolo ne so veramente un filtro su Instagram per lanciare sta roba che diventa il bianco e il nero e roba così con un omaggio al film o cose del genere sono tutte piccole problemi sia di strategia commerciale che il cinema italiano fatica ad avere ma quando si ha un successo tale secondo me andrebbe uno utilizzato per farlo conoscere ancora di più soprattutto adesso che è stato comprato all'estero due omaggiarlo in patria è assurdo che semplicemente perché c'è un tema di un certo tipo e oggettivamente una storia al femminile anche se teoricamente questi problemi sono sociali che riguardano tutta la società è un po' come dire che che ne so un film che parla di barriere architettoniche del problema di questo tipo che incontra le persone magari sulla serie a rotelle riguarda riguarda loro no riguarda tutti riguarda la società che è un problema sociale che tutti noi dobbiamo impegnarci per far sì che non sia più questo problema non è una cosa da donne il problema è anche questo nel cinema molto spesso quando si hanno film da donne o percepiti come tali vengono subito sminuiti molti non li vogliono vedere oppure se li vanno a vedere li percepiscono come rubetta cioè Barbie idem ha fatto la storia del cinema per quanto riguarda gli incassi e ancora viene trattato come dopo qualche mese tutti se lo dimenticheranno cosa? ha fatto un flex per quanto riguarda le ricerche di vestiti rosa per esempio ha cambiato le vendite di vestiti in un altro settore che non è quello cinematografico cioè tutta una wave probabilmente di nuovi film che parleranno di protagonisti femminili eccetera eccetera ha avuto un impatto culturale enorme che probabilmente il Barbie Nightmare verrà studiato nei secoli nelle università di cinema ha scritto la storia e non è una cosa da niente è assurdo che progetti molto più piccoli che hanno avuto un impatto ma più piccolo vengano esaltati a di più e questi semplicemente perché hanno a che fare con tematiche percepite come femminili o cast di donne o film per donne o diretti da donne vengano liquidati cioè com'è possibile che Sorrentino venga acclamato come si parlasse della grande bellezza come oh mio dio prima ancora dell'Oscar e di tutto e questo che ha un successo di pubblico non lo percepisci come il film del momento perché? perché tu lo presenti in un'altra maniera se tu domani prendessi una persona totalmente sconosciuta e iniziassi a fare in modo che andasse da tutti i saluttini tv e lo presentassi come un grande esperto informatico e anche produttore statunitense che ha fatto tanti film negli Stati Uniti e gli mandassi delle locannine ma questi film non esistono secondo voi? c'è una buona dose che questo personaggio verrebbe percepito come una persona di successo un grande assolutamente sì e quindi sì contano i fatti sono fondamentali per scrivere la storia ma conta anche che vengono riconosciuti perché tu puoi fare tutto quello che vuoi però io vi dico oggettivamente anche nel mio campo la critica cinematografica è molto difficile veder riconosciuti certi traguardi per quanto riguarda le donne e vedi molto spesso uomini che hanno meno traguardi o quasi niente che vengono magari apprezzati o acclamati o molto di più rispetto a una controparte più preparata con traguardi più ampi ma femminile questo è proprio il bias sociale quando si parla di patriarcato non si parla semplicemente di persone che guardano le donne e falano ma si parla proprio di bias ovvero come la stessa identica cosa venga percepita diversamente in base a chi è davanti ovviamente questo è un discorso lunghissimo perché ovviamente i bias ci sono anche per quanto riguarda l'etnia per quanto riguarda la percezione di disceso sociale quindi ci sono per esempio degli studi su bambini vestiti male che vengono che chiedono dei genitori che si sono persi e nessuno li aiuta bambini vestiti bene invece li aiutano quindi delle percezioni sociali che fanno cambiare radicalmente quello che si sta vivendo quello che si sta percependo per me c'è un problema per quanto riguarda tutto ciò c'è un grande problema che è due pesi due misure Paola Portellesi c'è un altro problema per quanto riguarda la Rochebacher perché la chimera non venga percepita perché lei all'estero viene percepita come una grande autrice di successo che fa film di Cristo e qui non lo so è più conosciuta forse la signora che si è lamentata di Gabbiani purtroppo rispetto a lei perché? perché effettivamente nessuno sembra avere tutta questa voglia di intervistarla non lo so sinceramente credo ci sia un problema che non può essere semplicemente la promozione è anche un problema di percezione su come i media i giornali le tv parlano di determinati registi e di determinate registi se tu fai questi successi vinci tutti i premi del mondo ma la tv non parla di te come se fossi una cosa epocale ma ti parla come le due sorelle del cinema tu sembri a scappata di casa non sembri un'artista acclamata nel mondo c'è sempre questa riduzione anche a come si parla c'era Paola Portellesi che ha rotto tutti i record per quanto riguarda l'opera prima e escono gli articoli parliamo della sua vita privata la storia cortizio il matrimonio come ha conosciuto il marito ma si cazzi ma parlami della sua visione cinematografica parlami della cosa nell'idea del film quali sono i suoi registi di riferimento perché ha voluto incosarsi anche nella regia è stata una seconda scelta fare l'attrice ha sempre sognato prima la regista non ha mai avuto l'occasione e anche questo dipingere le professioniste come professioniste e nonostante ci siano i traguardi non bastano purtroppo perché se il contesto dove sei non ti riconosce la percezione di professionista non ti dà la percezione di quel rispetto allora tu non sei una persona che è un'esperta io per esempio ho tutto un bagaglio culturale e ovviamente la laurea la tesi premiata in analisi cinematografiche eccetera eccetera ma la mia opinione sull'analisi di un personaggio femminile sul web non viene percepita come credibile nonostante sia l'unica con gli studi su quell'ambito per quanto ne so io quando voi sentite parlare di esperti maestri del cinema cioè maestri del cinema voi li avete mai sentito avvicinati a Chantal Ackerman a Agnes Varda che sono maestri del cinema che hanno scritto la storia saranno nei libri di storia e molti di quelli che vengono considerati maestri oggi probabilmente no cioè l'autorevolezza che ha guadagnato Agnes Varda probabilmente no non l'atterrà mai lui è il grande pubblico però quell'autorevolezza del cinema diciamo da studio merita ha studiato diciamo così non solamente a livello commerciale probabilmente non lo attirrà mai eppure lui viene chiamato maestro del cinema e non ho mai sentito parlare di Chantal Ackerman o Agnes Varda così perché? cioè voi avete mai sentito parlare di un'esperta? quasi sempre quando la gente parla di esperto è un uomo e molto spesso non è nemmeno una persona competente cioè YouTube è pieno di esperti e nessuno è competente in quella materia dall'altra parte ci sono un sacco di donne esperti in quella materia competenti in quella materia che vengono sminuite se dicono una cosa che la percezione generale non piace è tendibile è vera è verificabile viene sminuita io per esempio per scrivere questo tweet uno mi ha detto vabbè ma la grande bellezza come ti permetti tra l'altro cioè la grande bellezza no è un film onestamente che infatti non viene più chiamato è acclamato all'est eccetera eccetera è un film orribile no non è orribile c'è stanno di peggio c'è stanno di meglio io se vi è piaciuta la grande bellezza vi consiglio la terrazza e la dolce vita poi rimetterete la grande bellezza tutto in un altro contesto per aver scritto questa cosa un aspirante regista mi ha insultato e mi ha scritto ma che paragone del ca questa si dimostra questa riferita a me questa si dimostra sempre più rincoglionita e queste sono le piccole cose purtroppo ci vuole coraggio vorrei anche parlarvi per esempio un altro film che è uscito negli Stati Uniti ma non è uscito qui che è la storia di Shireite Shireite non so come si scrive come si legge S-H-E-R-E H-I-T-E che è praticamente una statunitense che negli anni 70 fece una ricerca per quanto riguarda il piacere femminile oltre il momento di coito con l'uomo quindi la parte Klee eccetera lei era una femminista e dovete scappare dagli Stati Uniti perché subiva minacce semplicemente per aver fatto una ricerca sul Klee recentemente sta uscendo è uscito adesso negli Stati Uniti un film che si chiama proprio la scomparsa con il nome di questa di questa professionista e cioè il problema è proprio questo le storie di donne ci sono le ricerche di donne ci sono ci sono anche tante storie che semplicemente per per parlare per mostrare dell'arte le donne sono state perseguitate fortemente vessate pensate alla famosa storia della donna la prima donna che corre la maratona che tutti gli danno le botte perché semplicemente oh mio dio una donna sta correndo con noi pensate che che persone con la testa del cazzo proprio purtroppo è complicato e riuscire a fare qualcosa non vuol dire assicurarsi la percezione di essere trattata alla stessa maniera e secondo me qui non c'è un trattamento uguale le cose fatte da donne devono nonostante scrivano la storia non vengono percepite come tale e questo equivale a cancellarle perché oltre fare qualcosa serve anche la percezione e il riconoscimento se tu fai qualcosa ma nessuno lo riconosce come tale tu non l'hai fatto se tu sei la persona più veloce al mondo corri ma nessuno vuole effettivamente non lo so registrare il tuo record roba così non verrà mai riconosciuto e tu non sarai mai la persona più veloce al mondo è sempre un po' così del caos ma questo era tutto bamboli non lo so sono molto scoraggiata però sono molto felice che ci siano sempre più regist donne in Italia e spero anche in storie diverse perché tante storie italiane sono semplicemente uno sguardo maschile a volte anche la pubblicità dei film sembra una roba da morti di figa onestamente anche per film che non c'hanno niente a che vedere volevo infatti parlarvi per esempio del poster italiano di tutti tranne te una commedia romantica dove in tutto il mondo la scritta copre il sedere della protagonista che è in costume mentre in Italia è stato tutto spostato proprio per lasciare il centro dove butta lo sguardo proprio sul sedere della protagonista per una commedia romantica e in genere il target delle commedie romantiche perché questa è una commedia romantica così sono donne etero che quindi sicuramente saranno interessate agli addominali del protagonista non certo al sedere di lei perché il target delle donne etero quello gli piace ecco quindi abbastanza sconfortata sinceramente però ce la possiamo fare purtroppo in Italia tutto il settore cinema ci sono molte donne ma è molto complicato io mi ricordo io mi ricordo ancora quando era appena uscito l'articolo di Ronan Farro su Weinstein che mi ricordo proprio che me ero seduta al cinema e davanti a me c'erano due critici in un'anteprima stampa e questi due critici due signori un po' sulla 50 60 anni dicevano e mo queste chi se le scopa più qualcuno per paura di essere denunciato e qui senza contare tutti i due critici si sono messi a prendere per il culo la gente all'anteprima di Barbie perché all'anteprima stampa alcune persone erano vestite di rosa e hanno fatto battute tipo sembra di stare a Tatooine ovvero la locanda di Star Wars dove ci sono tutti alieni strani questa è la visione vabbè che dovete fare purtroppo è molto complicato Maria Cafagna ha parlato anche delle ricezioni per quanto riguarda alcuni film e quindi che ve devo dire è un po' complicata la situazione ma questo ma questo era tutto bamboli se siete rimasti fin qui lasciatevi qui sotto un emoji ci riapproprieremo del roba ecco e non sarà più simbolo di oh mio dio sciocchezze qua di là ma sarà simbolo di forza that's it voi fatemi sapere cosa ne pensate e se avete una regista un film sulle donne diretto da una donna che consigliate consigliatelo pure mi fa un super piacere grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video ciao